bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo un bel po di novità per quello che riguarda questa settimana di fortnite e il futuro di fortnite in generale e sì ragazzi perché questa è una buona settimana in quanto arriverà tra qualche giorno la patch 14.10 obbligatoria visto che non abbiamo le sfide della settimana numero 3 ma vi farò vedere qualcosa della settimana numero 3 parleremo anche di un aggiornamento per quanto riguarda la causa legale apple versus epic games e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è una notizia davvero da prendere con le pinze ma molto molto bella come vedete ragazzi questa immagine ha cominciato a fare il giro dei vari forum dedicati a fortnite la troviamo anche su twitter e un po dappertutto si chiamerebbe kalen e come vedete ragazzi potrebbe essere la versione maschile della strega che abbiamo potuto shoppare l'anno scorso durante il fort nightmares se non ricordo male quella strega fu la prima skin ad avere un emote personalizzata che la trasformava completamente tanta roba ragazzi questo fortnite 2004 nightmares 2020 dove già vi ho fatto ascoltare alcuni suoni molto interessanti alcuni avevano di voi avevano scritto nei commenti sembrerebbe addirittura joker beh in realtà sappiamo che a novembre arriverà il bundle di joker ne hanno già parlato ufficialmente sul sito di epic games ma questa potrebbe essere una delle skin in arrivo per l'evento più atteso di fortnite e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ieri mattina finalmente è arrivata la nuova location ragazzi il collector's museum l'abbiamo beccato giusto il punto è esattamente sul versante della montagna dietro gatto grill la cosa veramente curiosa di questa nuova location e che come vedete racchiude in molte teche degli oggetti degli elementi che sono stati parte integrante della storia di fortnite addirittura quel quadro che abbiamo appena passato riprendeva una vecchissima tomato town parliamo della season 4 barra 3 addirittura le uova che hanno generato i le lucertolone che poi si sono collegate e tanto tanto altro questo appunto è l'ultima location che viene proposta come le come quarta dal da quando iniziata appunto l'apparizione di alcuni pezzi alcune parti di mappa e non abbiamo assolutamente idea del perché queste parti di mappa e da dove provengano siano arrivate qua nella nostra nuova mappa di fortnite ovviamente potremmo saperne di più non appena si modificherà il cerchio che i rift beacon stanno formando tra l'altro più tardi vi faccio vedere un'immagine perché c'è già un nuovo stage quindi è veramente in movimento potrebbero essere collegati sappiamo ovviamente che c'è sempre lo zampino di tony stark e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come vi anticipavo ci sono degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda la causa legale di apple anzi di fortnite contro apple epic games apple abbiamo una data finale dell'udienza il 28 settembre ma c'è stata un'intervista in queste ultime ore che hanno fatto direttamente ad alcuni dei membri del team di epic games e viene scritta questa cosa difendersi in questo caso è un passo necessario per liberare consumatori e sviluppatori dalle restrizioni illegali che apple ha imposto alla distribuzione delle app e all'elaborazione dei pagamenti in app su ios per troppo tempo gli sviluppatori non si sono pronunciati perché temono le ritorsioni di apple le recenti azioni dell'azienda mostrano che se sfidi il monopolio di apple apple tenterà di distruggere la tua attività fortnite continua tantissimo a spingere sul fatto che è un po illegale per apple chiedere così tanti soldi per quanto riguarda le transazioni in game e soprattutto il costo di pubblicare di mantenere un'app sul loro store per tutti gli sviluppatori come sappiamo c'è stata già una respinta da parte della corte al primo processo d'appello che epic games ha fatto dove appunto sono riusciti ad ottenere solamente la possibilità di continuare a sviluppare il motore grafico a real engine non hanno ancora ottenuto purtroppo una una risposta positiva dal giudice per poter riportare fortnite sui dispositivi ios pur mantenendo i nuovi prezzi dei vbucks quindi eliminando le transizioni che vengono fatte appunto nei confronti di apple da parte di epic games su ogni acquisto degli utenti tra l'altro ci sono dei brutti guai in vista per epic games perché dice inoltre qua è uno spezzone dell'intervista epic ha affermato che potrebbe non rivedere mai più questi utenti intesi come gli utenti dei dispositivi ios dopo aver ricevuto un calo del 60 per cento nei giocatori chiamando ulteriormente la decisione di apple dannosa per i giocatori e i clienti di fortnite la società afferma che oltre 210 milioni di giocatori non possono più giocare a fortnite sui dispositivi apple e che quei dispositivi erano l'unico modo per questi utenti di accedere al battle royal tra l'altro non è chiaro se l'ultimo tentativo di epic games di riportare fortnite sull'app store avrà successo questa volta il tribunale dovrebbe emettere la sentenza il 28 settembre quindi non ci resta che attendere fino ad allora per scoprire il destino della versione mobile del battle royal grandi guai perché ragazzi 210 milioni di utenti che non possono più accedere al capitolo 4 di fortnite alla patch 14.0 è veramente una botta notevole immagino per un'azienda miliardaria come quella di epic games io credo che non abbiano molte chance ne abbiamo già parlato anche nel video di ieri apple è troppo grande per potersi far mettere i piedi in testa da una un'azienda come epic games che è altrettanto grande ma non è paragonabile quindi starà ovviamente al giudice dire l'ultima sentenza vi aggiornerò non appena saprò altro e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono anche delle informazioni notevoli avevo detto che non sembrerebbe in produzione la skin di black panther però voglio farvi vedere uno spezzone video e farvi ascoltare soprattutto vediamo se lo becco eccolo qua ragazzi però ci sono nei file di gioco dei file audio vi faccio ascoltare questo nuovo potenziamento che si chiama kinetic absorption e wild wind blast non ci sono Questi sono solo alcuni ragazzi degli effetti audio che vi ho fatto ascoltare il che lascia presentare delle idee per quanto riguarda appunto una possibile skin di Black Panther in quanto come sappiamo e come avete letto sicuramente nella descrizione il potere assorbe i danni e c'è scritto like in the movie quindi penso sia una cosa che succeda anche nel film io sinceramente non l'ho mai visto quindi mi baso su quello che trovo in giro per le notizie sappiamo anche che arriverà un altro potere che saranno una specie di palle di fuoco ma non abbiamo ancora i file audio sono semplicemente delle voci di corridoio il che appunto ci lascia ben pensare che ci siano degli altri eroi in arrivo nel futuro di questa season insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non vi dimenticate di lasciare il like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch ciao 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 ciao